La vendita sia di quantità che di prezzo è diminuita del 60%. Parlo a nome di altri allevatori che sono molto demoralizzati perché non ci sono stati interventi di aiuto da parte della Regione Marche. Oggi siamo andati a trovare l'allevatore Antonio Ricciotti che ci parla delle problematiche che ha causato la pandemia Covid-19 agli allevatori di Bestiami. Siamo con Antonio Ricciotti, allevatore. Il Covid da oltre un anno e mezzo ha creato tanti problemi. A lei che cosa ha creato la sua attività? Ha creato moltissimi problemi perché il Covid ha ridotto l'attività commerciale, si è bloccato il commercio, soprattutto sono scesi i prezzi ma anche sul ritiro ritiravano poco materiale per cui abbiamo avuto delle problematiche veramente enormi a livello allevatoriale dove non si riusciva a vendere il latte, a vendere la carne e abbiamo avuto questi problemi commerciali veramente gravissimi. Poi dopo uscivamo già dal fatto del terremoto, è arrivato il Covid, si sono accavallati queste due problematiche che hanno creato veramente dei disagi a tutti gli allevatori delle Marche. Proprio per finire col celegino sulla torta è stata la siccità che da oltre un anno sono scese pochissime gocce d'acqua e ci ritroviamo con una produzione di fieno e di terrade alimentari per gli animali veramente dell'80% ridotte nell'ultimo anno per cui ecco tra terremoto, Covid e siccità ci troviamo sull'astrico. Stiamo adoperando le scorte di fieno e di mangime che dovevano servire per cercare di superare l'inverno, le stiamo adoperando adesso, ahimè forse non arriveremo nemmeno con le scorte di fieno e mangime a Natale. Ecco possiamo dire signor Ricciotti che sono più le uscite che le entrate? Sicuramente questo è stato sempre, l'agricoltura se si regge si regge perché ancora c'è la famiglia rurale che sostiene l'allevamento e questo non va bene, a volte rimettiamo anche le pensioni dei nostri genitori per cercare di sopravvivere e io faccio un appello alla nostra regione e ai politici della nostra regione di un occhio di riguardo al mondo allevatoriale perché gli animali sono esseri viventi che devono essere curati, salvaguardati e alimentati. In questo momento ci troviamo veramente a corto di risorse finanziarie e alimentari. Ecco ultima domanda, possiamo dire ai nostri politici che ci stanno guardando in questo momento di venire proprio loro qui sul posto per vedere che cosa sta dicendo lei è la verità? Certo, io li invito a venire nella mia azienda e se voglio nelle altre aziende dei nostri colleghi perché siamo molto uniti per vedere queste problematiche che si sono accavallate e se possono darci una risposta ne saremo molto grado. Grazie.